carissimi studenti buongiorno allora oggi siamo per fare un ripasso del l'imperfetto allora questo ripasso è destinato a tutti gli studenti del secondo anno bac è per tutti gli indirizzi allora oggi vediamo l'imperfetto quando lo usiamo è come si fa come facciamo la coniugazione dei verbi a l'imperfetto che come eri da piccolo allora sì vi dico come eri da piccolo oppure da piccola in questo caso parliamo di una fase della nostra vita un periodo della nostra vita che è bravissimi è l'infanzia allora l'infanzia è un periodo della nostra vita bellissimo certo ma quando vi dico infanzia che cosa vi viene in mente quali sono le parole che vi vengono in mente il gioco bravi allora il gioco tutti noi abbiamo giocato nella nostra infanzia e avevamo dei giocattoli con quali giocavamo l'infanzia è un periodo della gioia siamo felici siamo contenti giocavamo passavamo dei tempi con i nostri amici con la nostra famiglia e quasi tutti noi amavamo gli animali avevamo animali di compagnia che potrebbero essere gatti oppure cani oppure altri tipi di animali e adesso quando parliamo della nostra infanzia pensiamo ai nostri ricordi bravi allora i ricordi significa il souvenir quali sono i nostri ricordi dell'infanzia e tutti noi abbiamo diciamo dei ricordi che riguardano questa fase primordiale della nostra vita adesso vediamo un testo leggiamolo e poi cerchiamo di rispondere ad alcune domande di comprensione per capirlo bene allora dopo avrete un esercizio che riguarda la scelta del titolo dovete scegliere un titolo fra tre titoli e poi avete una un esercizio che riguarda alcune affermazioni a cui voi dovete rispondere con vero o falso leggiamo il testo insieme ciao mi chiamo giulia e 14 anni voglio parlarvi un po della mia infanzia infatti quando ero piccola ero molto timida e avevo i capelli castani molto lunghi e gli occhi di colori marrone gli occhi marroni abitavo in una bella e spaziosa casa in campania in cui c'era un bel giardino dove giocavo spesso con il mio gattino la mia casa era di colore bianco e aveva due balconi mi piaceva andare a scuola e tutti i giorni mi pettinavo i capelli e mia madre mi preparava la merenda ok di solito partivo in vacanza con la mia con la zia marta pensava passavamo tutta l'estate al mare nuotavamo e costruivamo castelli di sabbia ritengo finora dei bei ricordi della mia infanzia e voi com'era la vostra infanzia allora vi ho letto il testo adesso passiamo a rispondere a alcune domande che riguardano la comprensione generale di questo testo allora leggi il testo e risponde alle seguenti domande prima domanda scegli il titolo adeguato al testo allora vi ho dato tre guardate vi ho dato tre titoli ok allora in queste 33 titoli dovete sceglierne uno solo uno e questa domanda l'avrete inshallah nell'esame del baccalauria va bene dovete scegliere un titolo non due allora cominciamo una una triste infanzia questo potrebbe essere un titolo per il testo b una casa in campagna c l'infanzia di giulia allora secondo voi questo qual è il titolo adeguato a questo testo che abbiamo già letto e certamente prendete il tempo per fermare la video e rileggere più volte questo testo sì ok allora se vogliamo scegliere un testo d'accordo un titolo scusatemi allora dobbiamo scegliere un titolo che riguarda l'idea generale del testo non solo una parte del testo d'accordo allora secondo voi è l'infanzia di giulia bravissimi non possiamo scegliere altro perché non si parla di una triste infanzia e anzi è una bellissima infanzia non si parla di una casa in campagna il testo tutto il testo parla dell'infanzia di giulia continuiamo allora qua legge il testo e leggi le affermazioni e risponde con vero o falso a partire dal testo che abbiamo già fatto insieme abbiamo letto insieme cerchiamo di rispondere a queste affermazioni con vero o falso allora la prima affermazione da bambina giulia abitava in città questa affermazione vera oppure falsa poi abbiamo giulia aveva i capelli corti corti ci giulia non amava da piccola giulia passava la sua vacanza in montagna e e giulia aveva un animale di compagnia e f la casa di giulia era grande allora prendete il tempo per rispondere con calma e leggete bene il testo se avrete un esame nazionale inshallah dovete prendere il tempo sufficiente per leggere e rileggere molte volte il vostro testo per poter rispondere bene allora cominciamo adesso la correzione da bambina giulia abitava in città vero oppure falso e falso perché bravissimi lei abitava in campania non in città b giulia aveva i capelli corti bravi e falso perché aveva i capelli lunghi i capelli lunghi giulia non amava andare a scuola vero no è falso perché lei cosa le piaceva le piaceva molto andare a scuola amava molto andare a scuola di da piccola giulia passava la sua vacanza in montagna è vero no è falso perché lei passava la sua vacanza dove bravissimi in al mare non in montagna è al mare dove nuotava e costruiva castelli di sabbia e poi abbiamo giulia aveva un animale di compagnia aveva un animale secondo voi si bravissimi aveva un animale esattamente e un gatto un piccolo gatto un gattino la casa allora la casa di giulia era grande è vero si molto bravi era grande nel testo abbiamo un altro aggettivo che significa grande qual è bravissimi è spaziosa spaziosa dunque è vero va bene allora passiamo adesso a sottolineare nel testo tutti i verbi voi avete già fatto l'imperfetto non è un tempo nuovo per voi avete fatto in classe con i vostri insegnanti allora cercate di sottolineare i verbi coniugati all'imperfetto ok ci sono alcuni verbi al presente solo due credo e il resto sono verbi all'imperfetto bravi allora cominciamo a sottolineare quali sono i verbi che sono all'imperfetto leggete bene bravi allora il primo verbo è ero 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 piccola qual è il verbo questo qual è il suo infinito bravissimi il verbo è essere un'altra volta ero ancora quali verbo essere bravi avevo avevo allora avevo il verbo è avere bravissimi ragazzi abitavo abitavo il verbo è abitare bravi abitare un verbo della prima coniugazione c'era c'era il verbo è bravissimi esserci c'era giocavo il verbo è bravi giocare e era di nuovo che essere aveva ancora il verbo avere piaceva il verbo piacere e mi pettinavo mi potete dire che tipo di verbi questo? bravissimi il verbo è un verbo è un verbo riflessivo preparava il verbo è preparare partivo il verbo è partire e passavamo questo verbo è passare nuotavamo il verbo è nuotare costruivamo il verbo è costruire costruire e era il verbo è essere ok abbiamo sottolineato tutti i verbi adesso passiamo a vedere cosa esprimono alcune frasi che abbiamo preso dal testo allora qua abbiamo la prima frase ero molto cimida e avevo i cappelli castani cosa esprime questa frase? ero molto cimida e avevo i cappelli castani si? bravi esprime una descrizione esattamente una descrizione di chi cosa? di una persona descriviamo una persona nel passato certamente passiamo alla seconda la mia casa era di colori bianco e aveva due balconi bravissimi esprime una descrizione ma questa volta non è una persona ma è un luogo chi è? la casa la casa che era di colore bianco e aveva due balconi tre tutti i giorni mi pettinavo mi pettinavo tutti i giorni ogni giorno allora cosa esprime? esprime una ripetizione un'abitudine nel passato ok allora questa esprime azione abituale oppure ripetute nel passato cosa indica l'abitudine oppure la ripetizione nella frase? tutti i giorni allora questa espressione significa che si ripete ieri sera mentre mia madre preparava la cena mio padre guardava la tv qua abbiamo quanti azioni? bravissimi abbiamo due azioni ok? si passano in tempi diversi? no si passano nello stesso tempo dunque sono azioni contemporanei ok? allora esprimere due o più azioni contemporanee nel passato allora qua usiamo l'imperfetto ricapituliamo tutto questo possiamo dire che l'imperfetto si usa per uno descrivere persone luoghi tempo atmosferico stato d'animo eccetera nel passato sempre si parla del passato perché l'imperfetto è un tempo del passato non è del presente esprimere azioni esprimere azioni abituali e ripetute nel passato significa qualcosa che si ripete nel passato la dobbiamo esprimere con l'imperfetto esprimere due o più azioni quindi contemporanei nel passato quando ci sono più azioni nel passato che si passano nello stesso tempo cioè contemporanei dunque il tempo usato è l'imperfetto ok? c'è un altro uso che è quando abbiamo due azioni ok? nel passato una che viene interrotta da un'altra allora qua si usa l'imperfetto con il passato prossimo mentre camminavo sono caduta allora mentre camminavo è un'azione prima che è lunga e poi è stata interrotta da un'altra che è espressa dal passato prossimo questa è una lezione che farà con voi un altro collega un professore che vi presenterà una lezione solo che riguarda solo questa parte della concordanza passato prossimo è imperfetto inshallah adesso facciamo un po' di pratica di ciò che abbiamo visto adesso abbina ogni frase a ciò che esprime abbiamo ieri mattina alle otto io facevo la doccia mia sorella si pezzinava e mia madre preparava la cena dovete dirmi cosa esprime nella seconda parte mia nonna era molto bella e simpatica 3 da piccola passavo sempre la vacanza in campania allora queste frasi cosa esprimono descrizione nel passato azioni abituale azione abituale e ripetuta nel passato oppure due o più azioni contemporanee nel passato prendete il tempo per riflettere e rispondere ok facciamo correzione cominciamo con la prima allora ieri mattina alle otto io facevo la doccia mia sorella si pettinava e mia madre preparava la colazione allora qua abbiamo cosa? abbiamo azioni che sono contemporanee nel passato ok? bravi 2 mia nonna era molto bella e simpatica cosa facciamo in questa frase? bravissimi facciamo una descrizione nel passato sempre 3 da piccola passavo sempre la vacanza in campania esprime cosa? un'azione abituale ripetuta c'è un indicatore che indica che è un'abitudine una cosa che si ripete allora qua abbiamo bravi sempre ok sempre che significa sempre un'abitudine oppure una cosa che si ripete va bene abbiamo finito adesso con l'uso dell'imperfetto abbiamo fatto questo breve ripasso adesso passiamo a vedere come possiamo coniugare i verbi all'imperfetto come si forma l'imperfetto? allora sempre si comincia con i verbi regolari per fortuna l'imperfetto è un tempo in cui ci sono pochi verbi irregolari la maggioranza sono verbi regolari significa che rispettano la regola cominciamo con verbi in are cioè verbi della prima coniugazione vi ho portato il verbo andare vendere della seconda e partire della terza sempre un verbo riflessivo come abbiamo già fatto con la lezione del futuro allora andare guardate questa parte sempre la manteniamo che è la radice and e togliamo questa aree la sostituiamo con andavo avo tu andavi lui lei andava noi andavamo voi andavate e loro andavano ok allora guardate questa la dell'infinito rimane la manteniamo questa è una regola che vi aiuta avo avi ava avamo avate e avano passiamo adesso a vendere guardate vendere è sempre la stessa regola la radice la manteniamo vend e togliamo questa aree e la sostituiamo con evo vendevo vendevi vendeva vendevamo vendevate e vendevano la stessa cosa guardate ho sottolineato questa e che è la stessa dell'infinito che questa è una regola che vi aiuta a memorizzare la coniugazione di questi verbi passiamo adesso ai verbi della terza coniugazione verbi in ire è la stessa regola sempre è un tempo che è facile nella coniugazione partire partivo la i guardate la i partivi partiva partivamo partivate e partivano adesso passiamo al verbo riflessivo la regola sempre si comincia con questa particella oppure questo pronome riflessivo la si la dobbiamo lo dobbiamo coniugare mi ti si ci e vi e poi si e poi si passa a coniugare il verbo pettinare come se facciamo la coniugazione del verbo pettinare com'è il verbo andare allora mi pettinavo tu ti pettinavi lui si pettinava noi ci pettinavamo voi vi pettinavate e loro si pettinavano allora facciamo il verbo essere e avere allora essere ero eri era eravamo eravate erano avere avevo avevi aveva avevamo avevate e avevano facciamo un po' di pratica allora potete fermare sempre la video con calma fate l'esercizio visto che non c'è il tempo sufficiente per per fare l'esercizio come si deve dunque facciamolo velocemente scegli la forma giusta dei verbi dovete scegliere la forma giusta la settimana scorsa bel tempo come si dice facevamo bel tempo faceva bel tempo oppure facevate bel tempo bravi faceva bel tempo perché è impersonale bel tempo quando Marta vivere allora quando Marta vivevo vivevi viveva in Inghilterra andavi andava oppure andavate quasi tutti i giorni all'università quale soggetto della frase? Marta bravi allora cosa si dice? si dice viveva e andare andava bravi due anni fa mentre i miei genitori lavoravo lavoravano lavoravate io stavo stavi stava con la nonna bravissimi lavoravano e stavo mia nonna oppure la mia maestra scusate ero era eri molto elegante mi comportavo ci comportavi si comportava bene con noi dunque il soggetto della frase è la maestra dunque lei la maestra era e si comportava bene bravi da bambini ogni mattina io e mio fratello bevevano bevevamo bevevate il latte al cioccolato il soggetto è io e mio fratello significa noi dunque bevevamo passiamo adesso al secondo esercizio inizio allora completa le frasi con i verbi tra parentesi all'imperfetto manca una P signora Elisa che cosa fare ieri mentre suo marito riparare la macchina allora voi dovete completare con il verbo all'imperfetto allora qua signora Elisa significa lei cosa faceva d'accordo? mentre il suo marito il soggetto è suo marito significa lui riparava bravi quando essere giovani Paolo ed io cantare delle canzoni pop cantare delle canzoni pop allora io e Paolo soggetto significa noi eravamo bravissimi cantare sempre lo stesso soggetto cantavamo bravi tre da bambina Tina svegliarsi presto qua abbiamo un verbo riflessivo allora la cina è lei il verbo svegliarsi bravi si svegliava presto e quattro la casa della nonna essere molto luminosa la casa della nonna lei era bravi e avere una un grandissimo giardino bravi aveva cinque come essere tu da bambino tu come come eri bravi passiamo al terzo esercizio e questo esercizio vi l'ho portato perché avrete un modello nell'esame nazionale dovete trasformare dal presente indicativo all'imperfetto la mattina mi sveglio sempre alle sette faccio la doccia mi vesto esco da casa verso le otto vado al bar faccio spesso colazione con i miei amici e vado al lavoro verso le nove la prima cosa dovete sottolineare i verbi coniugati allora mi sveglio il verbo è svegliarsi faccio il verbo fare mi vesto il verbo vestirsi esco il verbo uscire e vado il verbo andare faccio fare sempre e poi vado andare adesso passiamo a trasformare quando lavoravo in banca ogni mattina mi sveglio si bravissimi mi svegliavo sempre alle sette e facevo la doccia e mi vestivo uscivo da casa verso le otto andavo al bar e facevo spesso colazione con i miei amici e andavo al lavoro verso le nove dunque ragazzi potete fermare con calma la video fare gli esercizi e correggere dopo d'accordo questa è la nostra lezione per oggi spero che vi sia utile ci vediamo in un'altra lezione a presto